...e un'attività, un'attività, un'attività... Dunque, io ho partecipato in vari modi alle manifestazioni di Conseltare il Novecento a cui ero particolarmente affezionata e che ho seguito fino all'inizio. E questo anche Rosario mi ha ricordato e la ringrazio. Ringrazio poi, ovviamente, Claudio Lorgoni che ha organizzato questa cosa e che mi ha coinvolto perché mi sembrava una cosa molto bella. In questo caso, però, diciamo che mi sono ritagliata un profilo che esce anche dalla cultura del Novecento di crocetti ma è, come dire, per una strada che è proprio il suo taglio culturale, no? All'attività in biblioteca. che è una cosa che lo contraddistingue in una maniera proprio molto particolare, molto speciale, cioè, diciamo, è unico nel suo leggere e che è un piano su cui, ovviamente, ci ha insegnato a tutti tantissimo e che, se si leggono sui scritti, emerge in una maniera proprio potente anche in contesti assolutamente tecnici perché proprio c'erano delle conoscenze, per gli studi fatti e per le letture sconfinate fatte, c'erano delle conoscenze filologiche, letterarie, storico-letterarie, talmente forti, talmente robuste, che veramente travelano ovunque, qualsiasi cosa scriva, qualsiasi cosa pensi. Quindi io ho provato, il titolo viziosissimo, vero, non lo perdonerete, ma insomma non ho trovato nulla, ma ho provato a fare una carriera di citazione, cominciando da un saggio di crocetti che è la tradizione culturale italiana del Novecento, che è un intervento che mi fece a Venezia, al seminario Angelo Pinai, alle soglie del Duemela e quindi poco prima che iniziasse anche il ciclo di conservare il Novecento, in cui una prima parte tratta proprio delle premesse culturali del secolo, del cosiddetto secolo breve. Per cui si parte da Croce, in tesi fondamentale dell'estetica conoscenza dell'espressione, che per approdare ha lungamente incubato un nuovo fare filologico, cioè una nuova filologia nazionale, dice Crocetti, inaugurata nel 34 dalla storia della tradizione critica del testo Giorgio Masquali e dalla prima serie dei problemi di critica del testo di Michele Barbi fino all'Agnus Mirabilis, il 39, a cui in cui appaiono le rime di Dante e gli esercizi di lettura di Gianfragonti. Ecco, questi sono i suoi riferimenti forti, fortissimi, mai 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 dimenticati, mai messi da parte. E questa nuova cultura, dice Crocetti, è una cultura capace di comprendere le cose e non solo lo spirito, è quella in cui ancora oggi ci possiamo riconoscere e quindi in ogni modo la sola che ci appare ancora fertile e semnale. Quindi, parte da questa premessa e poi arriva alla biblioteca e alla definizione della biblioteconomia, per la quale invoca una necessità culturale, cioè la biblioteconomia non fa parte della cultura finché si mantiene divisa. La biblioteconomia fornisce gli strumenti per maneggiare la cultura perché non dice più la tecnica. Perciò, cooperazione, unificazione di metri, di regole, sistemi, servizi nazionali, ricerca e richiedimento di linguaggio unico non leggo in nessun quadro la tradizione culturale che non riguarda la conservazione dell'intestazione Cicero, virgola, Marcus e Tullus, ma tutt' altre cose, come possono essere la costruzione delle raccolte, la politica informativa, l'attività culturale della biblioteca e il suo sostegno alla ricerca. E qui, devo dire le cose che diceva prima Messina, sulle funzioni della biblioteca storica, le raccolte, le collezioni, lo studio delle raccolte, la capacità di trasmettere le collezioni di una biblioteca, quindi l'attività culturale, quindi il suo sostegno alla ricerca. Allora, se è vero tutto questo, come è vero, il bibliotecario che cosa fa prima di tutto? Qui si parla, in questo intervento del 2002 che Rosario Campioni ama molto, una cultura di servizio per le biblioteche storiche, punto interrogativo. Il bibliotecario sarà il primo studioso dei documenti che costruisce, perché il loro studio, dal loro condotto, sarà il miglior servizio agli studiosi esterni, spiangerà dopo la strada. L'importante è che il lavoro nella biblioteca storica sia sempre ricerca e il risultato di ogni ricerca. Allora, lo studio, cioè il bibliotecario studioso, quello che ovviamente lui lo collega soprattutto alle biblioteche storiche, poi insomma per altre tipologie di biblioteche si può declinare in altra maniera, ma rimane comunque questo tratto di base. Io qui ho intitolato questa slide, la riflessione dei maestri. Si sta parlando di, quando Rosetti parla di bibliotecari studiosi, cioè nel taglio della cultura servizio per le storiche, lui richiama Armando Petrucci e al suo Medioevo da leggere. Cioè questa guida su come si legge il Medioevo, no? A cui dieci anni prima, cioè nel 93, Crocetti aveva dedicato una lunga recensione, anzi una paperolle, perché faceva le recensioni su biblioteche oggi, ma quando c'era un argomento che lo passava particolarmente, non necessariamente una recensione, scriveva una paperolle, che era il termine prustiano, e qui non a caso, e quindi era uno spazio più largo, no? Ma uno spazio di riflessione che andava al di là della semplice recensione. Premetto che le recensioni precedenti non sono mai semplici recensioni, ma aprono anche degli orizzonti lati. E quindi allora lui qui, in questo caso, nel Medioevo da leggere, in un titolo, fra l'altro, il più bello del 93, perché il libro è del 92, ma lui dice che l'ha letto nel 93, e quindi ovviamente è più bello del 93, perché è il suo punto di vista, e quindi conta la data della lettura, non la data dell'uscita del libro. Certo. Era più bello per lui. Esattamente, del 93. E però è una sottigliezza, no? Che però dice tante cose. Quindi non c'è un fatto editoriale, una data di stampa. No. Cioè il fatto che per lui che ne parla è il più bello del nuovo libro. E allora lui dice, tira in ballo appunto Petrucci e anche l'avviamento allo studio critico delle lettere italiane di Guido Manzoni, che era una vecchia guida sulle lettere italiane, a cui lui fa riferimento. Cioè dice che Petrucci sta su quella linea, insomma. E qui dice questa cosa bellissima. Per raggiungere la limpidezza, la pacatezza e, perché no, la cordialità di questi libri, occorre la riflessione. Occorre cioè che ogni informazione, ogni dato, ogni giudizio siano stati in materia di riflessione, siano diventati parte integrante di una mente e di una cultura. Pensati e come macinati negli anni, materiali che affiorano nitidi, ridotti all'essenziale, disposti per stricuamente. Fornire o credere di fornire informazioni lo fanno tante observerci proprio gli ambulanti. Dare informazioni pensate è proprio dei maestri. Ecco, e qui, da qui possiamo dire che Crocetti è davvero un maestro, perché la stessa cosa la possiamo dire tutti. Poi dice, vabbè, che cosa devono leggere i bibliotecari, no? Altro interrogativo. E qui, sempre questo bibliotecario ideale, no? Che è un po' come era lui. Come era lui. Esatto, come era lui. Allora dice, Croce amava cercare la migliore filosofia nelle pagine di artisti e scrittori, filosofi non professionisti. I bibliotecari potrebbero mettersi a cercare la migliore biblioteconomia nelle opere di critica e storia letteraria. E in un caso come questo troverebbero qualcosa meglio in certi strumenti professionali che non capiscono neppure la differenza tra titolo di ingene e un'opera e titolo di serie. E qui le sue polemiche. Questo discorso lo fa introducendo la recensione al libro di Jeanette sui dintorni del testo che è stato anche quello un libro un pantheon crocettiano e quindi non si parla più solo di testo si parla di dintorni del testo quindi anche del malfatto e quindi questo anticipa poi tutta l'attenzione per Tansel eccetera eccetera. Ecco. Altra raccomandazione. Mescolate i libri di biblioteconomia con libri di letteratura, di filosofia, di economia, di saggistica. Una maggiore confidenza e familiarità dei nostri autori e dei nostri lettori con la maestria letterale non potrebbe che giocare da noi la separatezza è forte. E qui spara. Il maggior biografo di Proust è un bibliotecario inglese che ha anche continuato a fare il suo mestiere. Cioè, questo è Penter che è stato curatore il responsabile del Dipartimento degli Incunaboli del British Museum. Non fermi i denti. Non lo conosco. Ecco. Allora, lui ha fatto questo. Lui è famoso per essere il biografo di Proust. Cioè io. L'autore della grande biografia di Proust. Poi ha fatto una biografia anche di Gide e poi anche una di Chateaubriano. Perché mi sono documentata? non perché lo sapesse. Però, ecco. E mi piace come Proust dice vabbè, non c'erano ci sono le astronomie. Andiamo al di là. Ha continuato a fare il suo mestiere. Vabbè. La lettura. La lettura naturalmente sul tema lettura generale c'è, vabbè, ci sono tipo un saggio molto interessante lo stile del lettore del 96 un convegno sulla lettura che si chiama Abitigliano c'è l'altro e qui lui si appella a Leopardi. Leopardi è il genio dei recanati, no? Perché non amava le perboli. Però fuori dal contesto economico spessissimo spara, no? Nel senso che perché è nella posizione in cui come dire il santi potesse permettere qualsiasi cosa perché non è la sua materia e anche questo è un aspetto divertente. Allora cosa il fondamento della riflessione dice Cercetti ce lo può prestare le guardi uno dei più grandi lettori di ogni tempo cosa che non c'è e cita da Luzi Baldone perché la condizione dell'uomo non è capace di alcun godimento notabile che non consista soprattutto nella speranza e questo è l'assunto e intanto leggiamo noi che gli studiosi sono come insanziabili della lettura anche spesse volte ridissima e provano un perpetuo diletto nei loro studi continuati per buona parte del giorno in quanto che nell'una negli altri essi hanno sempre dinanzi agli occhi uno scopo collocato nel futuro e una speranza di progresso e di giovamento qualunque si sia e questi sono i lettori che si studiano no? che quindi voglio dire c'è uno scopo che è uno scopo collocato nel futuro quindi un obiettivo una speranza di progresso e di giovamento dice invece gli altri non mirando nella lettura dal confine che non si contenga per così dire nei termini di questa lettura fino sulle prime carte dei libri più dilettevoli più suami dove vanno piacere si trovano sazzi quindi la lettura solo se la lettura solo se è ricondotta per motivi di studio diventa veramente un grande rituimento per lo spirito altrimenti un diletto e come tale lo sazia no? ecco e questo sempre gli obardi qui ho parlato del Zibaldone ho citato recentemente che cita del Zibaldone e di nuovo lo ritroviamo questo qui è un pezzo che si intitola la biblioteconomia di Giovanni Pietro di Essè è sempre una paverola quindi queste recepizioni grandi che ovviamente a me è appunto cara perché è dedicata a un numero speciale dell'antologia di Essè che facevamo nel 96 dedicata alla storia di un gabinetto di lettura cioè quello del Essè Crocetti era molto contento di questa pubblicazione e quindi cominciò questa sua recensione questo suo scritto così gabinetto di pubblica lettura è un perfetto indecasillabo di sesta e decima come tale è il primo verso della 35esima ottava canto primo dei Paralipomeni della patricomarchia di Giacomo Reuardo quel gabinetto dell'indecasillabo è proprio quello di Essè e qui ora non era nel campo il conte leccafondi signori pesafumo stracciavento c'è tutta una roba più romica troppo raro sui dicchi di profondi pensieri di dottrina erano un po' attento leggi sapea di entrambi i mondi e Geronai leggeva più di ducento al cui studio il suo padre aveva retto siccome oggi diciamo un gabinetto perché all'epoca i gabinetti di lettura insomma erano molto diffusi devo dire specialmente all'estero ma insomma però anche gabinetto di pubblica lettura ecco con legge età che da giornale in fuori il libro non si accogliesse in quel numero perché i gabinetti di lettura prima di tutto conservavano riviste cioè conservavano aveva mettevano a disposizione a pagamento giornali gazzette riviste periodici eccetera e quindi ma era il giornale la rivista il come dire il documento base forte non è dei libri anche se poi c'erano anche i libri che di due foglie che di due foglie al più fosse maggiore quindi roba di due foglie perché credea che sopra tal misura tender non si potesse uno scrittore appropriato a bisogni universali politici economici e morali e qui c'è proprio una bordata fortissima per il gruppo di essere eh le maniglie sottie progressive no? cioè tutto il divario fortissimo e ci fu poi tutti insomma niente anche bisogna aggiustare i toni però eh questa cosa allora Crocetti e qui veramente supera se stesso secondo me commentando questi versi Crocetti riesce in poche righe a restituirci la posizione di Leopardi rispetto al crocchio di palazzo Monti e Monti appunto dei pericolosi indicando gli avversari e i sostenitori del poeta dei Recanati ma anche le sue crocetti personali preferenze ve lo leggo perché non ciò parlare il conte dei caffondi che il genio con la G maiuscola cioè lo parli antiserialista cioè contro i periodici salireggia non poi tanto amabilmente non è certamente nonostante nonostante qui sia dichiarato erettore costruire il padre l'averetto siccome ci diciamo l'averetto ecco non è certamente nonostante qui era erettore il giovanchetto che sei è quasi certamente il marchese Gino Capone il candido Gino quel maledetto coso che si è messo in capo di corpionare questa frase celebre che Capone scrive non so se ADSE o qualche di un altro di avversione totale per Leopardi perché non tutti erano proprio entusiasti di Leopardi a Firenze ecco allora lui dice non è certamente lui se la prende Leopardi se la prende con qualcuno che è quasi sicuramente Capone perché Leopardi dice il docente non sarebbe mai presa col vero fondatore che gioia Giovan Pietro per sé per il quale ebbe sempre intero rispetto uomo prezioso all'Italia lo definì e veramente continuare a cercare se volgiamo indietro lo sguardo nel crocchio rituale di Giovan Pietro di veri geni ne passò uno sola solo il sopra ricordato in parentesi qualcuno vorrà aggiungere l'incidentale Manzoni e di personaggi cui dedicare senza riserve la nostra ammirazione Pietro Giordani è lo stesso padrone dei casi quindi questo c'è un ma voglio dire che sono quattro libri che ricava da qui lui lo diceva sempre lui lo diceva sempre quando io lupivo le scatole non c'avevo visto lo strato non c'è gabinetto e quando infatti facevi la recensione ricordo che fu felicissima che tirasse fuori questa cosa ma al di là dell'intuizione del recuperare questa cosa dove si parla proprio di quello ma è come la menta che lo trovo straordinario straordinario ecco però poi a parte quei queste sono tutte citazioni che sono funzionali allo svolgimento del discorso altre volte invece sono proprio associazioni cioè non sono direttamente collegate all'argomento trattato quindi ecchi diretture non professionali che rompono un discorso magari squisitamente tecnico come quando parla di restauro dell'originale e della scheda di restauro adoperata nella Nazionale di Firenze per i volumi che subirono l'alluvione del livello 66 e dove dice che in questa scheda nelle caselle destinate alle istruzioni per il trattamento della coperta del libro c'è le varie possibilità tra noi restaurare l'originale cioè questo vuol dire che il restauratore quindi al termine il restauro deve curare la riapplicazione della coperta originale sul volume restaurato è un'operazione è un'operazione di Z nell'attuale pratica del restauro di Cecrocetti eccetera ma quello che non volevo ecco siamo nel 69 è critico questa cosa sì è critico ma io ora non parlo di questo perché vabbè è un altro argomento è un altro argomento cioè lui cosa dice e certo l'aspetto splendido che un infoglio palatino riassume posto sugli scaffali con la sua originaria coperta di marocchino vivace viene alla mente montale forse hanno ciecamente lottato i marocchini rossi dieci dodici giorni sotto un'atroce morzura di nafta e sterco certo hanno lottato tanto prima di perdere la loro identità quindi fra l'altro questo è uno Xenia di montale mi sembra sia del 67 perché c'era una prima uscita su strumenti critici poi l'ultima successiva ma ora non è comunque l'incipit dell'alluvione ha sommerso il pack dei modi e fra l'altro quando abbiamo fatto l'edizione solo nei scritti siccome c'è un problema di varianti Alberto Pedro Gianni stava bravissimo che ci aveva in casa tutto è andata a controllare se questa versione era quella del Xenia pubblicato cioè di quando questa poesia appare raccolta o la prima uscita in realtà era la prima uscita che era sui strumenti critici insomma quindi significava che comunque Procetti voglio dire era perfettamente al corrente di che cosa pubblicava Montale prima ancora che uscisse la raccolta un'altra citazione vabbè e qui si ha Mario Luzzi il suo grande passione questa è messa in apertura al convenio Reggio Emilia Poesis dedicata all'ingresso alle nuove tecnologie biblioteca dove si dice che sta in questo ingresso un nuovo concettuale che deve ridefinire i compiti delle biblioteche e dei bibliotecari e dalla metamorfosi di Ciccocetti nascerà una nuova vitalità della biblioteca se i bibliotecari hanno il coraggio di viverla e Luzzi nel corpo oscuro della metamorfosi è questo ancora più vasto un senso estremibile come quando agli stampi vuoti della storia affrisce un metallico nuovo che poco vi sia detto e poi di nuovo qui addirittura biblioteche archivi 1995 lui parla che l'unico modo ci sia una strada percorribile per le biblioteche è quello della cooperazione e del conf se le biblioteche si confederassero a questo scopo no? Cioè la ricerca e la compenetrazione la possibilità di dialogo eccetera lui dice ne abbiamo la speranza e di nuovo fiora la speranza di un guardiano perché chiude questo intervento sugli archivi e poiché è sempre bello concludere con le parole di un grande concludiamo stavolta con le parole del più grande di tutti la speranza cioè una scintilla una goccia di lei un abbandono all'uomo e poi dopo accaduta nella disgrazia la più interventualmente contraria e la più decisiva è il 18 ottobre 2018 grazie ringrazio ancora un minuto? ah si ho scoraggio no no abbiamo un tempo fino ai 5 ricordo un'altra cosa che è la citazione di Tumilino stessa pioggia stesso mare sono state ricordate le tesi di Viareggio e allora quindi lui dice che Viareggio porta fortuna all'associazione no? perché qui si sta parlando qui siamo nel congresso Viareggino sulla gratuità del pariuffe nella biblioteca pubblica e quindi stessa spiaggia stesso mare no? è il Green Booker non è la stessa spiaggia stessa spiaggia è la stessa spiaggia è una stessa spiaggia quindi allora lui attacca in maniera letteraria anche quest'intervento no? questo momento il mare e il cielo come oggi grigi acquate improvvise e rapide spiodre come oggi a pochi mesi di distanza da dove oggi ci troviamo sto parlando del 34esimo congresso nazionale dell'associazione italiana biblioteca di Reggio del 38-87 il congresso attesi il nostro incontro eccetera eccetera allora, il Reggio porta fortuna all'associazione, è prova il successo del nostro incontro, è prova il legame a un maestorico che si è stretto per il suo nome è uno dei momenti più alti nella vita dell'Aipa, appunto quelle tesi, le tesi di Viareggio salutiamo dunque affettosamente questa città, salutiamola con il primo verso in una poesia del suo genio Slosci, Mario Tobin o Viareggio più bella dell'Oriente che sembra una cosa salutata lì, ma c'è tutto soprattutto bisogna conoscere questa poesia, questa è l'ultima poesia dell'Asso di Pic di Tobino, tra l'altro Tobino è più noto per i suoi romanzi ma non certo per le sue poesie è l'ultima poesia dell'Asso di Pic che appunto, tra l'altro è molto bella perché dice, continua dice che nel maggiorato ce l'è essere se è resale l'acuto profumo dell'orealto e te sognato in te spero morire allora, mi avvio alla conclusione ora da vedere negli ultimi mesi della sua vita costretto all'immobilità Luigi Crocetti ha trascorso le lunghe giornate solo in compagnia dei suoi gatti a ripassare la letteratura italiana e straniera dico ripassare perché si trattava spesso di letture già fatte ma riprese per poter formulare un giudizio definitivo e collocare una personale gradatoria e gradatoria Pushkin il più grande coetalusso di tutti i tempi Balzac escluso D'Annunzio da salvare solo il Cione e solo Sanzorna Soldati la giacca verde da questo gioco condotto con lo spirito di un ragazzo un po' viscolo e l'ironia di chissà di essere giunto alle sue ultime battute rimanevano ovviamente esclusi gli importabili Pascoli, Leopard, Proust il brasiliano di Marais Rosa autore del Gianni Sertà mi rammarico di non ricordare tutti i tasselli del gioco letterario e che Luigi mi ha convolto nei nostri ultimi conti ho provato solo a riferire qualche dettanto con grande fedeltà da testimone per citare le ultime parole di Orazio e di Marleto Scespiriano perché, come ci ha insegnato Procenti è sempre bello concludere con le parole di un grande grazie